La favorita è Cuneo Olmo, il nuovo progetto calcistico nato nel capoluogo Insieme. Le chiedo come nasce questa collaborazione e cosa vi ha spinti a voler supportare questa nuova società sportiva in questo progetto così ambizioso? Ma io arrivo dall'Olmo e pertanto ho l'esperienza di sponsorizzazione trentennale, ho pensato di continuare a dare una piccola mano anche perché secondo me è una cosa molto importante che i ragazzi abbiano degli spazi dove poter anerarsi, dove poter stare assieme, specialmente in questi periodi qua dove nasce molto il problema dei ragazzi che devono legare tra di loro. Ecco appunto, lei avendo una grande esperienza già essendo nell'Olmo e stato anche presidente di questa società che poi si è unita al Cuneo, sa bene quanto è importante per questa realtà sportiva avere un aiuto da altre realtà, da alcuni sponsor? Certo, noi siamo sempre vissuti come tuttora, le squadre queste e le società a quei livelli lì vivono perché comunque ci sono degli sponsor, c'è qualcuno che crede che nel piccolo possa fare qualcosa di buono. Togliere dei ragazzi dalla strada, insegnarli a giocare a calcio, secondo me è una cosa importantissima, prima perché nell'età un po' pericolosa, così tra virgolette, stanno insieme a un gruppo dove devono comunque sottostare delle regole e anche un insegnamento al di fuori del calcio. E noi l'abbiamo fatto finché l'Olmo è stato da solo, poi secondo me la fusione è stata una gran cosa, una gran bella cosa perché ha unito due forze. Prima, se torniamo a un detto di 30 anni, l'Olmo più che altro prendeva dei ragazzi che magari non avevano la possibilità di essere accompagnati dai genitori fino a Cuneo in altre società e prendeva un po' i ragazzi che vivevano nell'Oltrastura e che raggiungevano i campi da calcio da soli. Adesso il progetto è cresciuto, meno male che è cresciuto e mi pare che stiamo andando abbastanza bene. A parte la prima squadra che è prima e è una soddisfazione, ma è proprio a livello giovanile, si sta facendo una gran bella cosa. Ecco, vogliamo allora fare anche una battuta sulla vostra realtà, la favorita. Che realtà siete, cosa fate e se vuole un po' spiegarci quali sono le vostre attività e quali sono gli obiettivi futuri. Ma noi siamo nati circa 40 anni fa, come tante aziende siamo nati dal nulla e poi nel tempo ci siamo posizionati nei vari mercati. Noi abbiamo curato sempre molto, oltre che l'immagine, anche la qualità che è stata una nostra forza in tutti questi anni. Siamo un'azienda piccola, nonostante esportiamo in 42 paesi nel mondo e la bellezza della nostra società è che non perdiamo i clienti, acquisiamo i clienti, ma quelli che abbiamo anche gli storici di 35 anni fa continuano a darci fiducia. Questo è uno stimolo per farci continuare a lavorare così. Noi abbiamo scelto quella strada, poi c'erano altre strade da percorrere. Quella che abbiamo scelto noi è stata quella di curare il cliente, la qualità, essere posizionati nei posti giusti e finora ci ha dato ragione.